Barese 55 anni, vanta nel suo curriculum tra le altre cose e una lunga esperienza al nucleo di polizia giudiziaria presso la procura di Milano. Michele Angiuli è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lecce. Subentra Pietro Foderà ora ai vertici del comando provinciale di Campo Basso. Per l'ingegnere Angiuli la realtà leccese rappresenta una bella sfida e pur consapevole delle criticità del territorio non nasconde il proprio entusiasmo per il nuovo incarico. Sono consapevole, ha detto durante l'incontro ufficiale con la stampa, di poter lavorare con professionisti oltre che profondi conoscitori del territorio. Un territorio esteso dove basterebbe una piccola rivoluzione di aria per garantire i soccorsi ancora più efficienti. È un tessuto abitativo particolare nella provincia di Lecce dove ci sono tantissimi paesi su un territorio molto grande. Quindi i problemi dei collegamenti stradali sono dei problemi che effettivamente esistono e vanno risolti, sicuramente migliorati. Inevitabile poi l'argomento organico con una riflessione dedicata al periodo estivo quando le emergenze si moltiplicano ma le unità restano sempre quelle. Cosa a cui noi sopperiamo con richiamo di personale discontinuo e con eventualmente anche istituzione di alcuni distaccamenti temporanei estivi. Con gli eventi di riconoscimento.